Questa è una giornata storica, la prima auto elettrica a Cagliari, il primo giro e i primi test abbiamo girato le zone più impervie della città, l'auto ha passato tutto, tutto ha sommato bene il test Racconta il percorso Diciamo che la giornata non ci ha assistito, ci fosse stato un po' meno vento, non ci fosse stata la piazza Siamo passati per via Roma, siamo passati per via Roma Siamo passati per via Roma, siamo passati per via Roma, poi siamo passati per via Roma Siamo passati per via Roma e poi siamo tornati alla base L'automia ha costumato circa 20-30% dell'autonomia totale, l'abbiamo percorso 15-15 km in quattro persone pieno carico. Più o meno quanto può durare l'autonomia? Autonomia con giusto rapporto, una carica comprata sui 60-70 km. Diciamo che su un percorso medio pianeggiante siamo intorno a 2 km, su un percorso impegnativo come quello che abbiamo fatto oggi, potremmo dire di restare nei termini tra i 40-50 km. Anche con un rapporto più adeguato al ponte, sicuramente avremmo un utilizzo più lungo per un percorso molto più lungo che la metà. Soddisfatto? Moltissimo. Speriamo che sia allestato dall'avvento dell'elettrico a Caglia, per i turisti, ma non solo, anche per noi che la viviamo tutti i giorni.